I know you somewhere, somewhere Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94 Allora, 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 oggi faremo un video molto, 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 molto particolare Sono tornato dal poco da sushi, da mangiare sushi E sono qui con questo video Pancia piena, mente libera Di che video si tratta? Praticamente ragazzi, è una missione al 128 in solo Ma non soltanto al 128 Abbiamo moltiplicato la difficoltà portata al massimo Ovvero, abbiamo aumentato la difficoltà 6 volte Fino a portarla a 4 giocatori più 2 E i mob dal 128 arrivano così al 191 È più semplice rispetto a una missione 4x Per quale motivo? Perché nella 4x ragazzi, i mostri al 128 arrivano al 171 Sono più bassi, però ne spawnano molti, molti, molti di più In questo caso però, non c'erano missioni che mi piacevano Quindi ho fatto un 128 normale Addisonando, diciamo, la difficoltà di gioco E aumentando la difficoltà ulteriormente Ho deciso di non farla col costruttore Quindi mi sono privato del danno delle trappole superde caricate Bensì ho utilizzato il soldato Per quale motivo ho fatto tutto questo? Perché io ho un gruppo Telegram ragazzi di... non mio Di una mia amica che l'ha fatto Che praticamente è un gruppo Telegram di giocatori 120 più E in questo gruppo qua sono 3 giorni che ho fatto questa scommessa Con Charles Elezal, che saluto tanto E lui mi diceva che secondo lui non l'avrei fatto Non sarei riuscito a farla col soldato Ma anche se avrei dovuto farla col costruttore Sicuramente me l'ha detto semplicemente per motivarmi Perché comunque lui pensa che sono un bravo player E lo ringrazio di questo E difatti ho scelto di accettare la sfida E appunto mi sono munito di armi d'assalto E del mio mazza salto urbano Questa è la build che ho utilizzato Allora, mazza salto urbano per quale motivo? Perché ovviamente hai danni critici del 225% Mentre se avrei usato il primo colpo Che ve l'ho sempre consigliato Avrei fatto un critico più prolungato Diciamo con lo schioppo Però avrei avuto un danno critico più basso In questo caso mi sono privato di 6 colpi Diciamo sicuri garantiti Accontentandomene semplicemente di 2 Garantiti al 100% Però con un 225% addizionato Quindi lo schioppo che io utilizzo solitamente Mi arriva alla bellezza di Datemi un secondo che lo trovo Questa al 106 è uguale Mi arriva alla bellezza di 705% di danno per colpo critico Quindi tantissimo ragazzi Andiamo ad analizzare ulteriormente la nostra build Ci ho messo attacco preventivo Che praticamente quando un eroe Quando un nemico è al 100% della sua salute Per ogni eroe leggendario che io ho Epico o superiore Comunque in questo caso Ci sono tutti i leggendari Avrò un 6% addizionato del danno In questo caso il 30% Gli abietti non mi arriveranno mai in piena salute Quindi questo avanzato squadra L'avrei sprecato teoricamente Avrei preferito mettermi magari Vaccipiano Però non ci avevo pensato Comunque se la build è andata bene lo stesso La build che ho utilizzato È la stessa che ho utilizzato ragazzi Per il gameplay dell'LMG L'amateratrice a mercurio Che comunque a fine video Se non l'avete visto Ve la lascerò in descrizione Nell'altro Praticamente ho fatto un aumento più Un aumento massimale Diciamo del danno Per quanto riguarda le armi d'assalto Io nelle 128 o più Comunque nelle 100 superiori Utilizzo solo due armi solitamente Schioppo E metteratrice a mercurio ragazzi Perché vedete che i danni Li vedete proprio su carta Vedete proprio che l'abbietto Si va squagliando lentamente O velocemente In questo caso ho utilizzato Folli di novità Che per ogni colpo che vado a sparare Aumenta del 1% Il danno Fino al massimo del 50% Quindi con la metteratrice a mercurio Che ha un caricatore di 130 Si va a combacciare perfettamente L'otta agli sprechi Aumenta la dimensione del caricatore del 30% Vi ho primo colpo Che quando ricarica I primi due colpi Sono 100% sicuri di critico Danni aumentati L'armi d'assalto del 17% Ed è praticamente simile Folli di novità Apparenza di rapida Che praticamente vi aumenta Ogni colpo che sparate L'1% del danno Però invece che fino al 50% Fino a 25% Deocando in singolo ragazzi Ho utilizzato lo standard Invece che la vita Perché praticamente Mi permette di Rianimarmi tutte le volte che voglio E oltre a questo Mi permette di Autoriparare E rinforzare Diciamo le strutture Che vanno collegate Allo standard Come Non avendo il mini boss Invece del campo lento Ho optato Per le overtorrette Alla fine Hanno perso comunque Di Qualità Non sono più Oppi come una volta Però comunque sia Una piccola mano Ve la danno lo stesso La missione che io ho scelto Ragazzi È un cavalca il fulmine Se non sbaglio E Oltre a questo L'ho fatta due volte La prima volta ragazzi Ho mandato tante bestemme Voglio essere onesto Per quale motivo Non l'ho persa Però non è nemmeno avviata Per quale motivo L'ho startata Ho costruito tantissimo Avevo fatto 10.000 di costruzione E a quel punto Mi mancava da fare uno spawn Cioè ho fatto uno spawn kill Mi mancava il secondo Che è successo Praticamente quando tu spami tantissimo Cerco quadrato Cerco quadrato Che praticamente Sono i tasti per Mettere il muro Posizionare la trappola Mi si è bugata la costruzione E non mi permetteva più Di aprire appunto Il menu di costruire Quindi sono dovuto andare giù Sono dovuto andare giù Al piano di sotto Prendere il mouse Prendere la tastiera Collegarle Arrangiarmi Perché non sono praticamente pratico Giocare con la tastiera Per cercare di costruire Una volta di costruire Una volta di costruire tutto quanto Ci ho messo troppo tempo E mi ha espulso dalla partita Quindi non l'ho nemmeno avviata E ho perso tutte le trappole E tutto il materiale Che avevo utilizzato Vi parlo di Tanto ma tanto Tanto materiale Uno stack per Per tipo tra legno Ferro e pietra E tutto quello che c'è va dietro Comunque se l'ho stata la seconda volta Ricostruito in maniera Più veloce Vedrete che alla fine Ci sarà praticamente Vedrete che alla fine Ci sarà nella schermata Diciamo Del punteggio finale Ci sarà un altro nome Un'altra persona Che lui non mi ha aiutato Semplicemente è entrato in partita Perché mi l'ho dimenticato Di prendere il legno Che avevo finito Gli ho detto in un attimo Di portarmelo Quindi nel portarmi in legno Ho fatto un attimo Un paio di combattimento Però vedrete che Nel corso della partita Non sarà presente Quindi al 100% Ho garantito Che è stata fatta in solo Quindi nessun incremento Nessun aiuto Semplicemente Questa è la spiegazione Nel video Se non sbaglio Ho detto Che sono stato il primo Al mondo Ad averla fatta Invece Non è vero Perché nel frattempo Che la registravo L'aveva già portata Un'altra persona Che se non sbaglio Kino TV Perché mi è apparso Aprendo YouTube Mi è apparso dietro Che ci aveva caricato Sto video E oltre a questo L'aveva portato Un altro YouTuber Che non mi ricordo il nome Doveva essere americano Che anche questo Mi è apparso Tra la lobby Però lui non l'aveva fatto In solo Se non sbaglio Ma l'aveva fatto in gruppo Utilizzando il bazooka Per il resto ragazzi Buon video Gustatevelo Ho sfruttato un paio di Ho sfruttato la parte Della build Per farvela più veloce E per farvela pesare meno Per quale motivo Uno Perché la build Che ho utilizzato È la build Diciamo La difesa diamante Che ragazzi Ve la consiglio tantissimo Super super OP La build a diamante Ragazzi L'ho utilizzato sempre Nelle 4 per Sempre in tutte le difese Che faccio Perché con quei 4 quadratini Non passa nessuno O comunque passano Pochi mob Oltre a questo Ho selezionato La parte di Alla frost Diciamo La difesa degli sbalzatori Che Notano tutto questo Per come manata A me gli spawn Non era neanche necessario Se io avessi lungato gli spawn Non avrei neanche dovuto Mettere gli sbalzatori Perché di mob Ne uscivano veramente pochi Usciva ogni tanto lo smasher E verso la fine Mi sono uscito un paio di piccoletti Detto questo Spero di non aver parlato troppo Ragazzi Ci vediamo tra poco Con la difesa E gustatevela Lasciate un like Perché mi piacerebbe Questo video Venga Venga Diciamo Vescare nella lobby A molte persone Che magari Si affacciano A questo tipo di gioco In maniera più genuina Senza ripensare le truffe E che dire Gustatevi il video ancora A tra poco Eccoci con la missione Ragazzi Vi faccio vedere al volo Come ho buildato Innanzitutto qua Mettiamo un muro Un pugnetto Che me l'ho dimenticato Insieme a una bordata Allora ragazzi Come potete vedere Ho fatto la classica difesa A diamante Che vi stavo dicendo Prima di iniziare Con Diciamo Con Con L'avviamento Delle quattro classiche mura Della difesa a diamante È opportuno Per Far entrarci Comunque Smaltire Gli abietti Che devono passarci Metterci magari Ai bordi Dello spawn Un paio Un paio di dardetti Se giustamente Non c'avete Non c'avete Lo spawn Che va a spaccarvelo Potenziare un pochettino Così non vi rompono Le murature E soprattutto Metterci Qualche gas Sulla testa Ragazzi Così Avete Meno abietti Che vanno A rompervi Le scatole Finiamo di metterci Gli ultimi gas Poi vi faccio vedere Il passaggio successivo Per farci che la difesa Prosegua il più semplice Possibile E diciamo Sappiamo già Quali sono i problemi Quindi i problemi maggiori Sono lanciatori E streghe Oltre agli smash Che quelle là Non fanno danno Quindi per proteggerci Da lanciatori e streghe Ci conviene fare Una specie di piano superiore In modo che Non gli permetta Di lanciare Queste cose Ve le ho già fatte vedere Ragazzi Nelle difese Su Su Mari Le missioni Di frost knight E Praticamente Fare tutti Un passaggio Un blocco Che gli blocchi La visibilità In modo che Invece di lanciare O retrocedere Queste Vadano per forza Avanti Un'altra che avete fatto Questo In questo caso Io avendo Il soldato Non posso fare Doppio salto Invece del ninja Quindi Spaccate per forza Le scale Perché altrimenti Se vi salgono da sopra Andate a Perdere la missione O comunque A trovarvi Veramente In difficoltà Ricontrolliamo La sponkill Qua ci mettiamo Un bel Pugnetto Guardate Che sono al 191 Ragazzi Con colpi Mi hanno Tanto Quali Tutto Lo scudo Qua Chiudiamolo Un attimo Ok Finiamo Un attimo Di modificare Che ho sbagliato Un attimo Il senso Di Questi piccoli Muri Che Vanno A Ostacolarli E Alla fine Ho messo Gli sbalzatori Che come vi ho detto Prima Non sarebbero Dovuti servire Aumentiamo La difficoltà Portiamola al massimo Dovrebbero servire Se non sbaglio 12 blab Per potenziarla tutta Più va bene In questo caso Altri 4 blab Che sarebbero Quelli per attivare Due volte Il nostro Cavalco Il fulmine Portiamo Sulla difficoltà E poi Avviamo Ok La nostra difesa Ragazzi E' iniziata Ci ho messo Un paio di difensori I soliti Che mi vedete utilizzare Che sono i preferiti Ovvero Quelli Corruggiti Del drago Buggato Che praticamente Causano Effetto Di rispinta Tenendoli Bloccati Come Come delle mosche Diciamo Ok Qua Mi sono preparato Questo qua Nel caso Dove sto scendendo La montagna Se passano Ci butto un po' Di gas Anzi Forse è meglio Che c'è il vento Subito Allora Come vedete Ne escono Ne escono tantissimi Ragazzi Quei pochi che escono Secondo me Se ci allungavano Un altro po' Di pilo Sponkill Ci mettevo in mezzo Un po' I difensori Non avrebbero Neanche fatto Mai un difensore Col brittratore Non avrebbero fatto Neanche strada Fino Tutta questa strada qua Quindi La tenga degli sbalzatori In questo caso Anche per la mappa Che mi sono scelto Non sarebbe stata Diciamo Del tutto necessaria Mi piacciono tantissimo Le bordate Ragazzi Come trappola Perché veramente Hanno un radio di azione Elevatissimo Come Diciamo I dardi a muro Però semplicemente Ti beccano Più e più volte In questo caso Anche anche un campo aperto Si beccano Diciamo Danno Da tutte le parti In questo caso Diciamo che la missione Era un po' Nartura di scatola Perché era pozza e frenanti E se non sbaglio Era anche morte curativa Fortuna che non ho beccato Quella con Mura fragile Morte explosiva Se no Avrei dovuto aspettare Per fare il video E guardate che Lo smash al 191 È veramente pesante Da buttare giù Però Guardate Se lo tenete Iniziate a sparargli Mentre dentro La difesa diamante Lui non esce Qua io sono morto Vediamo se lui esce In teoria no Perché Ho rivisto la clip In teoria dovrebbe essermi Rimasto bloccato dentro Buggato O bloccato Guardate che meraviglia Allora lo smasher Voi potete anche lasciare stare E non Ammassarlo Vabbè in questo caso Io l'avevo lasciato aperto Anche se appena Lo spawn Qua bastava che ci avesse messo Uno sbalzatore E questo voleva via A meraviglia Ragazzi Io vi dico Che veramente Come C'erano il cuore in gola Perché L'ho fatto addirittura Senza il costruttore Quindi Se avessi fatto il costruttore Non penso che nessuno Nessuno Usciva Solo lo smash Che va bene Lo smash Sono un macello di vita Ragazzi Però Mi sarebbe uscito Con meno di metà vita E addirittura Mettendoci magari Togliendo una perk di coso E mettendoci il danno Ammentato Sul colpo sicuro Pure il costruttore L'avrei buttato giù Però Fidatevi che fare una partita Senza il costruttore Con danni aumentati È È una difficoltà Diciamo Differente Dovete praticamente Essere sicuri Su come avete buildato Questa è la seconda parte Ragazzi Come avete visto La prima difesa è finita Mi sono riguardato Lo spawn E L'ho modificato un po' Perché la seconda partita È un po' cambiato Ora vi faccio vedere Ci ho messo un po' di gas Allo spawn Un po' diciamo Darde non finire Un po' di dinamo Qualche pugno Piccola difesa diamante Un po' ristretta Perché giustamente Avevamo la discesa E subito Un paio di sbalzatori Qua dove avete I posti difensori È stata la parte Che mi hanno dato Un po' più le scatole Perché giustamente Passavano dritti Però Ce la siamo cavata E regreggiamente Anzi più Di quello che mi aspettavo Direi che È il momento Di startare E mettiamo Il nostro standard Qua Se non c'avevo Questo cacchio di coso Che me lo sono messo Per costruire Così non mi arrivano abietti Il Come si chiama In questo momento Non c'è neanche la Non c'è neanche per memoria Guardate quante abietti ragazzi Guardate come muoiono Allora Ora vi indico Il punto Che secondo me Potrebbero rompere Là dove c'è la muratura Praticamente Loro ho paura che rompano Quindi ci ho messo Degli sbalzatori Come scendono Per avere una maggiore protezione In questo caso Non hanno rotto Quindi comunque Sì me la sono anche vista bene Puliamo il campo da battaglia Che è anche più carino da vedere Bang bang Eh praticamente anche I costruiti da costruttore Ragazzi sono abbastanza Abbastanza fk Giustamente c'è da sparare Sparo Se questi ti prendono Sei finito ragazzo Sei finito E qua hanno 3 di scatola Perché ogni volta che caricavi E se passi sopra Il posto di difensore Non ti ricarica l'arma Ma ti fa selezionare il difensore Quindi diciamo Che era abbastanza scomoda Perché con questa build qua Devo sparare e ricaricare Sparare e ricaricare Quindi i difensori Per se ci sarebbe stato meglio Se lo mettevo in alto Però Vabbè È andata così Ogni tanto lascio stare Non ho sentito rumori Ma sento abbiette Che passano all'altra parte Finito Hai finito di vivere Oggi non era la tua giornata Mico mio Ok Sto giro qua Non abbiamo preso danno Però lo prenderemo Alla fine Perché purtroppo sono morto Gli ultimi 10-15 secondi Vedete che si è attivato Un puntino Una specie di mini boss Sopra lo smasher Se voi schiacciate ragazzi Il tasto L3 Da playstation Da pc Non so dirvelo Comunque il tasto di movimento Addosso Puntate lo smasher Con il mirino E schiacciate il tasto Dei muovervi Addosso al nemico Che volete I difensori Si fionnano solo Su quell'obiettivo là Quindi quando ci avete Il mini boss Quando ci avete uno smasher E ci avete difensori Schiacciate il tasto di movimento Addosso al nemico Lo premete proprio E questo praticamente Viene bombardato Dai vostri difensori E giustamente C'ha C'ha meno tempo da vivere Come me in questo caso Ok Solo qua Ho preso danno Perché sono crepato Però Mancano gli ultimi secondi Quindi la missione È andata proprio Tranquilla Ragazzi Spero che questo video Vi piaccia Se vi è piaciuta Come idea E soprattutto Se volete rivederne In altre missioni Scrivetevi magari Un modo In cui Volete che io la fronti Possibilmente Non morte esplosiva Perché sarebbe Abbastanza difficile Però anche se volete Una morte esplosiva Ditemelo Che mi organizzo Il video è tutto Alla prossima Alla prossima